Quando avete visto questa, effettivamente è così rara e praticamente mai individuata? Quando abbiamo visto questa, effettivamente nella prima volta che l'abbiamo vista siamo rimasti stupiti del fatto che ci fossero così tante... diciamo che un indice del fatto che il virus sia diverso rispetto al wild type di Wang è il numero di mutazioni che tu vedi. Quindi aver visto nel frammento che di solito analizziamo 3-4 mutazioni diverse che non erano le solite che relativamente vedevamo, la variante inglese piuttosto che principalmente va bene in Italia adesso gira la variante inglese, effettivamente ci ha fatto dire che questo virus è diverso da quello che di solito vedevamo. insomma, praticamente queste qui che vedi dove c'è conflitto e qua c'è anche il cambio amminoacidico, sono tutte le variazioni che ha questo genoma rispetto. Qua c'è una delezione di 6 nucleotidi e poi mano a mano perché siamo riusciti a sequenziare una grossa porzione del genoma. Anche qui relativamente abbiamo un altro cambio. Diciamo che stavolta la variante è particolare nel senso che risulta essere piuttosto rara. quella che abbiamo identificato, infatti, è una sequenza di un genoma intero del virus grazie anche alla collaborazione con i colleghi del Serafele che è comparabile, quindi praticamente identica ad un'altra unica sequenza che è presente in banca dati, cioè dove si mettono tutte le sequenze di SARS individuate e che è stata riscontrata in un viaggiatore che è arrivato in Thailandia dall'Egitto. La nostra sequenza ha, diciamo, un'omologia molto elevata con questa sequenza, quindi è rapportabile a questo tipo di sequenza che ancora non è una variante vera e propria. Ecco, deve ancora, come dire, assumere questa forma, questa nome. Dobbiamo aspettarci sicuramente un aumento delle varianti, cioè un aumento del numero di varianti che il virus produrrà e quindi in questa ottica sarà molto interessante, anzi sarà, dico, fondamentale cercare di capire quali varianti hanno un significato biologico e quali varianti invece questo significato biologico non hanno proprio per discriminare questa attività di ricerca sulle varianti. Quindi sarà fondamentale avere dei dati non solo molecolari ma anche biologici per caratterizzare meglio le singole varianti e, come dire, cercare di studiare e approfondire quelle che evidentemente avranno un significato biologico. Quello che si può dire sulla base delle mutazioni che noi in questo momento abbiamo identificato è che non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda l'attività dei vaccini che attualmente stiamo utilizzando. Ci sono però delle mutazioni interessanti che vanno ovviamente approfondite e studiate. In questo caso è un'individuazione stata fatta in un soggetto ricoverato che almeno da quello che ne sappiamo attualmente non ha un link epidemiologico particolare che lo leghi a quei paesi in cui questa variante è stata per la prima volta identificata. È evidente che indagini epidemiologiche e studi sulle relazioni magari che questo soggetto ha avuto con altri soggetti saranno in corso, però ripeto al momento non c'è nessuna indicazione che ci sia una circolazione di questa variante nel nostro territorio. Al momento è soltanto un riscontro individuale. Quello che si sta facendo adesso per contrastare le varianti è quello che si può fare con le scelte che sono state fatte di fare, nel senso che l'operazione di bloccare, di mettere in quarantena zone limitate del nostro paese credo sia la scelta in questo momento giusta. credo difficile poter fare un lockdown come abbiamo vissuto fino a qualche tempo fa e quindi questo credo sia una cosa positiva da fare. Non credo che chiudere i confini sia modo per limitare o per bloccare la circolazione del virus che evidentemente attua e ha meccanismi di penetrazione nella popolazione molto ben diversi da quella di una chiusura dei confini. Grazie. Grazie. Grazie.